Una verifica di maggioranza ancora lontana dal concludersi quella che ieri ha visto riunire a Palazzo Silone per un primo giro di riflessioni e confronto tutte le forze politiche del Governo regionale. Una verifica che lascia alcuni soddisfatti come il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Etel Sigismondi che parla di punto qualificante per poter ricordare a tutti quanto è stato realizzato dalla squadra del Governo regionale, ma altri ancora dubbiosi. In particolare a rompere le uova nel paniere del Presidente Marco Marsilio è di nuovo il responsabile degli enti locali e deputato a cui l'anno della Lega Luigi Deramo, per il quale la maggioranza ha ancora molto da chiarire e ha rilanciato una verifica che si protrarrà oltre la pausa ferragostana in un lungo comunicato serale, in cui ha rimarcato che la Lega vigila su tutte le richieste fatte a Marsilio e non si accontenda dei primi timidi successi incassati ieri, come l'impegno del Presidente di affidare la delega alle autonomie regionali a un assessore leghista. Più concilianti i toni del coordinatore regionale della Lega Giuseppe Bellachioma e di quello di Forza Italia Nazario Pagano. Penso che si debba semplicemente andare avanti, registrare qualche bullone che evidentemente non è a posto. Quali sono questi bulloni che non sono a posto? Ci sono alcuni impegni che sono stati assunti all'indomani delle elezioni, quando abbiamo stabilito un patto di inizio legislatura, alcuni di questi sono stati assolti, altri no. Abbiamo registrato una notevole disponibilità da parte del Governatore Marsilio, da parte nostra comunque non c'era nessuna intenzione di alzare qualsiasi livello di scontro, ma ritenevamo giusto comunque che questa verifica fosse importante sia per vedere un po' com'è la situazione in questo momento nel Governo della Regione Abruzzo, ma anche per un cambio di passo e per un cambio di metodo dove noi abbiamo chiesto da qui in avanti la massima condivisione possibile su tutte quelle che sono le scelte strategiche della Regione. Intanto prosegue il lavoro della Giunta regionale che ieri pomeriggio ha quasi completato la nomina degli alti dirigenti, scelta come direttrice generale della Regione e l'ex amministratrice delegata di Trenitalia Barbara Morgante, che sarà a braccio destro di Marsilio e coordinerà l'intera macchina regionale. Resta invece in alto mare, segno che la spaccatura con la Lega è ancora lontana dall'essere ricucita, l'ufficializzazione dei manager delle ASL di Chieti e dell'Aquila, quella che ha fatto scatenare la crisi, rinviata a una delle prossime giunte ufficialmente per l'assenza ieri pomeriggio di un responsabile regionale che avrebbe dovuto firmare l'atto.